Arte e scienza, arte e natura sono sempre andate insieme, non sono aspetti della realtà divisi l'uno dall'altro dagli steccati dei muri come normalmente pensiamo. La tribù degli alberi è stata l'Alezio Magistralis di Stefano Mancuso, un incontro nell'ambito del Festival Naturalmente Pianoforte, che fino a domenica 21 luglio animerà i luoghi più suggestivi del Casentino. Non solo musica, però nel programma del Festival anche incontri con gli autori il nuovo filone artistico dedicato agli scrittori e ai libri che offre al pubblico l'opportunità di esplorare la relazione tra l'uomo, l'ambiente e la spiritualità. L'ambiente, giù per capirci, siamo nelle foreste casentinesi, quindi siamo in un luogo che ha una fondamentale valenza proprio per la conservazione della natura e dell'ambiente. E' un problema complesso. Noi oggi viviamo in un mondo che tende, come dire, a banalizzare i problemi complessi. I problemi complessi invece vanno raccontati, vanno semplificati, non banalizzati. Sono due cose molto diverse. Un problema complesso può essere semplificato raccontandolo, diciamo, nella sua essenzialità. E invece può essere banalizzato raccontandolo come se fosse una barzelletta. Purtroppo oggi ci troviamo in un mondo in cui i banalizzatori sono tantissimi. E le persone invece, diciamo, che riescono a semplificare i problemi complessi sono molto pochi. Io cerco di dare, non lo so se sono un banalizzatore o un chiarificatore, però cerco di dare il mio contributo. Penso che sia importante. L'eredità illuminista sembra sparita da questa età, appunto. Ci siamo dimenticati che in qualche modo la scienza non riesce più a parlare, no? Parlano altre cose. Il Covid l'ha dimostrato, è stata un'accesoia importantissima nella nostra vita. Come poter, appunto, riprenderci questa grande eredità illuminista che è fondamentale per l'essere umano? Che sarà ancora Sapiens? Questo è il punto fondamentale. Probabilmente da che Galileo ha inventato il metodo scientifico siamo nel momento della nostra storia in cui questo metodo ha il minor valore possibile. Cioè, siamo in un momento della storia in cui le opinioni, le verità, i racconti che provengono, diciamo, da un metodo scientifico che è stato elaborato, che sono una serie di regole che l'uomo si è dato proprio per evitare che chiunque potesse raccontare qualunque stupidaggine, viene messo in discussione. Viene ritenuto che invece, diciamo, l'opinione della scienza sia un'opinione fratante, un'opinione pari a chiunque si interessi di qualunque problema. Ecco, questo non è vero. La scienza non propone opinioni, la scienza propone, diciamo, quello che c'è di più vicino per l'uomo all'idea della verità. E oggi contestare questo principio che veramente ha permesso il grande progresso dell'umanità lo vedo come uno dei pericoli più gravi.